L'antica civiltà egizia ha lasciato dietro di sé numerosi enigmi che sfidano ancora la nostra comprensione moderna. Questi includono siti misteriosi che suggeriscono possibili conoscenze avanzate nell'antico Egitto. Numero 1. Nel cuore dell'antica città egiziana di Abydos si trova uno dei monumenti più enigmatici e affascinanti del mondo antico, l'Osirion. Scoperto all'inizio del XX secolo dagli archeologi Flanders Petrie e Margaret Murray, questo tempio sotterraneo è dedicato al dio Osiride, una delle divinità più importanti del panteon egiziano. L'Osirion si distingue per la sua architettura unica e misteriosa. A differenza di altri templi egizi, è costruito ad un livello molto più basso, quasi come se fosse sepolto. I suoi enormi blocchi di granito e il design massiccio ricordano le costruzioni megalitiche di Stonehenge, il che ha portato alcuni ricercatori a speculare sulla sua vera origine e sul suo scopo. Una delle caratteristiche più notevoli dell'Osirion è la sua sala centrale, circondata da pilastri giganti e inondata d'acqua per gran parte dell'anno. Alcuni credono che l'inondazione sia intenzionale e potrebbe essere collegata a rituali di rigenerazione e rinascita associati a Osiride, il dio della resurrezione e della vita dopo la morte. L'Osirion presenta anche intriganti allineamenti astronomici e simbologie che sembrano collegare il Tempio ai concetti della cosmologia e della mitologia egiziana. La precisione della sua costruzione e l'enormità dei suoi blocchi di pietra sfidano le tecniche di costruzione, convenzionali dell'epoca, suggerendo conoscenze avanzate di ingegneria e astronomia. Nel corso degli anni, l'Osirion è stato oggetto di numerosi studi e dibattiti tra archeologi e storici. Alcuni sostengono che il Tempio potrebbe essere molto più antico di quanto si pensasse originariamente, addirittura antecedente alle dinastie faraoniche conosciute. Tuttavia, la sua vera origine rimane un mistero. Osirion non è solo un sito archeologico di grande interesse, ma anche un luogo di profonda connessione spirituale per molti. Ogni anno, molti visitatori si riversano ad Abidos per esplorare questo enigmatico Tempio e riflettere sugli antichi, misteri che custodisce. In breve, l'Osirion è un tesoro nascosto dell'antichità, un monumento che unisce architettura monumentale. Profondo simbolismo è un'aura di mistero che continua ad affascinare tutti coloro che lo visitano. Numero 2. Aerei precolombiani. Quando parliamo di antiche reliquie che rappresentano la tecnologia avanzata, uno degli esempi più singolari è quello di una piccola statuetta d'oro che ricorda notevolmente un aereo moderno. In effetti, è considerata una prova molto importante per l'antica teoria degli astronauti. Nel 1997, gli esperti dell'aviazione tedesca decisero di testare le capacità di volo degli aerei precolombiani costruendo. Un modello in scala dotato di carrello di atterraggio e motore. È stato abbastanza semplice perché non c'era quasi bisogno di aggiungere parti al modello. Nulla intaccava la perfezione del suo disegno. Tutto era stato realizzato da quegli indigeni più di duemila anni fa. Una volta completato, il modello telecomandato è stato testato su una pista improvvisata, è decollato e ha volato, e dimostrò quanto fosse perfetto il design aerodinamico creato da questo antico popolo, indicando che dovevano aver assistito a qualcosa di simile. Non è spiegato come, ma deve essere stato così. Numero 3. Il disco di scisto, ritrovato negli antichi cimiteri di Saccara. Questo disco si distingue per la sua eccezionale fattura e dimensioni. Misurando circa due o due piedi e mezzo di diametro, il suo intricato design presenta motivi circolari concentrici che hanno incuriosito i ricercatori, suggerendo la possibilità di far parte di un'antica tecnologia perduta o di un dispositivo meccanico avanzato. Sebbene alcuni suggeriscano che potesse essere utilizzato per dirigere l'acqua, la disposizione dei suoi tre lobby non sembra supportare questa teoria. Sembra invece che facesse parte di un meccanismo rotante attorno ad un'asse centrale. La lavorazione artigianale del disco è davvero notevole, con lame sottili o petali che si estendono dal centro, ciascuno perfettamente formato e disposto simmetricamente. I curiosi segni di bruciatura trovati sul disco devono ancora essere completamente spiegati, approfondendo il mistero che circonda il manufatto. Alcuni ipotizzano che potrebbe essere stato un dispositivo per la misurazione del tempo, uno strumento astronomico o un macchinario per scopi sconosciuti. Collegati al disco ci sono tre pezzi che ricordano parti di ingranaggi. Suggerendo un collegamento con la tecnologia avanzata, i confronti con manufatti di altre antiche civiltà note per la loro abilità ingegneristica, come il meccanismo di Anticitera, supportano l'idea di una conoscenza dell'ingegneria meccanica tra le culture antiche. Questa somiglianza suggerisce una possibile tradizione perduta di tecnologia avanzata, sollevando interrogativi sulle vere capacità delle antiche civiltà. Numero 4. L'Uccello di Saccara Nel 1898, gli archeologi scoprirono quella che chiamarono la tomba di Piadi Imena Saccara, in Egitto. All'interno della tomba trovarono una mummia circondata dai suoi averi terreni, accuratamente disposti su un tavolo vicino per accompagnarlo nell'aldilà. Tra il consueto assortimento di ceramiche, utensili e altri oggetti funerari, hanno trovato qualcosa di insolito, un piccolo modello di uccello. Quando catalogarono questo modello di uccello, attirò l'attenzione degli archeologi per la sua simmetria quasi perfetta. Le ali dell'uccello misuravano poco più di 17 centimetri e pesava solo 39 grammi. Curiosamente, l'uccello non aveva piedi e le sue ali erano attaccate a una fessura nella parte superiore del corpo, estendendosi verso l'esterno come se fosse in volo anziché ripiegate all'indietro, come i tipici modelli di uccelli egiziani. Studiandolo da vicino, notarono che l'uccello di Saccara aveva ali aerodinamiche e non dipinte, ad eccezione di un occhio su un lato. La cosa più sorprendente era che la sua coda veniva ruotata di 90 gradi, in modo simile ad un moderno stabilizzatore. A prima vista sembrava un modellino di aeroplano, il che fu sorprendente perché nel 1898, quando fu scoperto, gli aeroplani non erano ancora stati inventati. Inizialmente gli archeologi pensarono che fosse una rappresentazione spirituale e la conservarono in una teca di vetro per 70 anni. Nel 1969, il dottor Khalil Messia, professore di anatomia e membro di diversi club aeronautici, lo identificò come un antico modello di aliante. Le loro teorie, sebbene non supportate da prove concrete, suggerivano che gli antichi egizi potessero avere tecnologie avanzate. Messia ipotizzò la mancanza di vernice sull'uccello per risparmiare peso e propose che la sua coda verticale fungesse da timone. Anche se la sua teoria sulla mancanza di uno stabilizzatore orizzontale mancava di prove, affermò coraggiosamente che l'uccello rappresentava un aereo a grandezza naturale. Questa scoperta continua ad essere oggetto di dibattito, sfidando le nostre idee sulla tecnologia antica. Numero 5. Mistero delle pietre blu di Stonehenge. Si sa molto di Stonehenge, il famoso cerchio di pietre inglese, ma rimane un luogo di grandi misteri. Uno di questi riguarda poco più di 40 delle pietre più piccole del sito, conosciute come pietre blu. Non provengono da nessuna parte della zona circostante. Invece, venivano estratti dalle preselis nel Pembrokeshire, nel Galles. Si tratta di una distanza di quasi 320 chilometri e solleva la questione di come qualcuno possa averli. Trasportati così lontano 5.000 anni fa, nel 2019, un nuovo studio ha individuato il luogo preciso sulle colline da cui sono state prelevate le pietre. Gli studiosi hanno stabilito che le rocce venivano estratte utilizzando cunei per aprire punti verticali tra ciascun pilastro di roccia naturale. Nei siti, nella valle sotto il sito di Karn Godog nelle colline di Preseli, sono state trovate piattaforme in pietra e legno realizzate dall'uomo, presumibilmente realizzate e utilizzate dagli architetti di Stonehenge. Ciò potrebbe in definitiva spiegare da dove provenissero le pietre e come furono spostate dalle colline native, ma non spiega perché o come furono trasportate attraverso una distanza così enorme. Numero 6. Il teschio con un impianto metallico è una delle scoperte più affascinanti e misteriose dell'archeologia moderna. Trovato in un sito precolombiano nella valle di Lambayeque, in più, questo teschio appartiene alla cultura Sikan, fiorita tra il 750 e il 1375 dc. Ciò che rende straordinari a questa scoperta è l'impianto di una placca metallica nel cranio, apparentemente eseguito come una delle prime forme di chirurgia cranica. La placca, realizzata in una lega di oro e rame, è stata posizionata per coprire una ferita traumatica alla testa, probabilmente causata da un colpo contundente. Questa procedura mostra un livello avanzato di conoscenze mediche e abilità chirurgiche per l'epoca. Gli studi sull'osteointegrazione, dove l'osso si fonde con il metallo, suggeriscono che l'individuo sia sopravvissuto all'intervento chirurgico, indicando una notevole conoscenza della medicina e l'abilità dei chirurghi precolombiani. La cultura Sikan è nota per le sue abilità nella metallurgia, soprattutto nella creazione di oggetti cerimoniali e ornamentali altamente complessi. Tuttavia, l'applicazione di queste competenze in medicina apre nuove prospettive sul livello di sviluppo tecnologico e scientifico delle antiche civiltà del Sud America. Questo cranio impiantato solleva anche dubbi sullo scopo dell'intervento. Potrebbe essere stato un intervento medico per salvare la vita dell'individuo, una pratica rituale per curare malattie spirituali o una combinazione di entrambi. La precisione del taglio e del posizionamento della placca suggerisce una tecnica avanzata e una profonda. Comprensione dell'anatomia umana. Inoltre, la scoperta contribuisce al dibattito sullo scambio di conoscenze tra culture antiche. Alcuni teorizzano che potrebbero esserci stati contatti con altre civiltà avanzate, consentendo lo scambio di tecniche mediche e tecnologiche. In sintesi, il teschio impiantato in metallo della cultura sicane è una testimonianza sorprendente dell'ingegno e dell'abilità delle civiltà precolombiane, rivelando aspetti sconosciuti delle loro conoscenze mediche e della loro capacità di eseguire interventi. Chirurgici complessi. Numero 7. La medaglia del faraone. Tutankhamon e la sua eredità. Tutankhamon era un sovrano egiziano che regnò dalla fine della Diciottesimo dinastia nel 141. Anno corrente fino alla sua morte nel 1324 anno corrente, all'età di 19 anni. Sebbene la fama di Tutankhamon impallidisse in confronto a quella dei suoi successori, durante il suo regno il giovane re fu spesso elogiato dal popolo egiziano per aver corretto le ingiustizie del suo. Predecessore aver riformato l'Egitto dopo che Akenaton lo aveva lasciato in subbuglio. La popolarità globale del giovane faraone è nata principalmente grazie all'esplorazione europea delle varie, tombe reali più di 3.000 anni dopo la sua morte. Il fascino per Tutankhamon, come lo conosciamo oggi, nasceva più dalla sua tomba che dal re stesso. Howard Carter, un archeologo ed egittologo inglese, scoprì la tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re, a Luxor, nel 1922, quasi completamente intatta. Queste scoperte furono significative per gli archeologi, i che suscitarono un rinnovato interesse per l'antico Egitto e le meraviglie di Luxor, affermando Howard Carter e Tutankhamon come nomi familiari in tutto il mondo. Numero 8. Pietre di Giada con sculture misteriose. Residenti alla periferia di Puebla, vicino a Veracruz, in Messico, hanno trovato nel marzo 2017 pietre di Giada con misteriose sculture che sembrano rappresentare esseri. Umanoidi con grandi teste, simili ad alieni grigi. Lo ha riferito su Twitter il giornalista Avier Lopez Diaz di Cinco Radio. Le pietre, studiate da esperti, presentano incisioni che potrebbero rappresentare un vero e proprio contatto tra esseri provenienti da altri mondi e le civiltà maia o azteche. L'autenticità di questi reperti sembra essere confermata dall'ispezione di una grotta vicina, dove sono stati rinvenuti ulteriori resti e petroglifi che riproducono scene di un incontro tra esseri, extraterrestri e culture preispaniche. Sulle pietre documentate si possono vedere vari disegni scolpiti, tra cui astronavi ed esseri che somigliano ad alieni grigi. Una delle pietre mostra un'astronave con un essere che regge un oggetto ovale e un capo preispanico con una spiga. Di grano. Gli scopritori chiamarono queste pietre i pietre del primo incontro. I ricercatori suggeriscono che gli antichi locali avrebbero avuto contatti con gli extraterrestri e lo avrebbero. Documentato attraverso incisioni rupestri, Hector Pavon, responsabile della sicurezza della squadra, ha dichiarato «Sono navi extraterrestri e più di ogni altra cosa ci stanno insegnando che gli extraterrestri hanno avuto contatti». Con i Maya, dialogando e facendo scambi. Numero 9. La lampada di Dendera, scolpita nelle pareti del tempio di Atora Dendera, in Egitto, è un'intrigante rappresentazione di una lampada elettrica. L'immagine mostra una serie di cavi che sembrano collegarsi a una fonte di energia ed emettere luce, il che ha portato a speculazioni sull'esistenza della tecnologia elettrica nell'antico Egitto, sebbene alcuni esperti suggeriscano che la raffigurazione potrebbe avere un significato simbolico piuttosto che la descrizione letterale di una lampada elettrica. Il mistero che circonda questa immagine rimane oggetto di dibattito. Numero 10. Il disco dropa è un oggetto enigmatico scoperto in una grotta nella regione cinese di Bayan Caraula nel 1938. Si compone di una serie di dischi di pietra su cui sono incisi strani simboli non ancora decifrati. Si stima che abbiano più di 10.000 anni. La storia dietro la scoperta ha alimentato teorie sui visitatori extraterrestri e sulle antiche civiltà avanzate. Si ritiene che i dischi siano associati a una tribù chiamata dropa, descritta nelle leggende locali come esseri piccoli e fragili. Sebbene alcuni ricercatori abbiano suggerito che i dischi potrebbero essere la prova di passati contatti alieni, altri li considerano come una possibile rappresentazione della cultura e della tecnologia di un'antica civiltà umana. L'autenticità e l'esatto significato dei dischi dropa rimangono argomenti di dibattito e speculazione nella comunità scientifica. Numero 11. L'obelisco incompiuto. Nelle cave di Aswan si trova un obelisco incompiuto di granito che potrebbe cambiare la nostra visione dell'antico. Mondo egiziano. Gli egiziani scolpirono tre lati prima di abbandonarlo a causa di una crepa nel granito. Questo mistero ha sconcertato gli storici che si chiedono come queste strutture siano state scolpite e trasportate da un unico blocco di pietra. Sebbene mai completato, il progetto ha fornito preziose informazioni sulle antiche tecniche di murature egiziane. Durante le indagini sono stati scoperti segni di utensili degli operai e linee colorate che indicavano la posizione degli operai. L'obelisco incompiuto è solo l'inizio di una grande avventura attraverso i secoli. Numero 12. Il disco di Festo, un enigmatico oggetto in argilla scoperto a Creta nel 1908. Risale al secondo millennio anno corrente e presenta una serie di iscrizioni in scrittura indecifrata. La sua forma circolare e i segni sulla sua superficie suggeriscono una lavorazione elaborata. Nel corso degli anni, ha sconcertato gli esperti a causa della sua complessità e del mistero che circonda il suo scopo e significato. Sono state proposte varie teorie sulla sua origine, da un calendario astronomico a un gioco da tavolo o un manufatto religioso. Nonostante gli sforzi per decifrarne le iscrizioni, il disco di Festo rimane un enigma irrisolto. La sua scoperta ha portato a diffuse speculazioni sulla civiltà minoica e sulla sua possibile relazione con altre. Culture antiche. Sebbene nella regione siano stati rinvenuti oggetti simili, nessuno ha gettato luce definitiva sullo scopo del disco. Il suo studio continua a rappresentare una sfida per archeologi e linguisti e il suo significato continua a essere oggetto di dibattito nella comunità accademica. Numero 13. La Madonna della chiesa Barfusser. Nell'ottobre del 1975, una squadra di operai trovò una camera funeraria con pareti di mattoni all'interno della chiesa Barfusser a Basilea, in Svizzera, durante un progetto di ristrutturazione. All'interno della tomba trovarono un paio di bare ben conservate e, al loro interno, due serie di resti umani. Un set non era altro che uno scheletro, ma l'altro era il cadavere mummificato di una donna che in seguito sarebbe stata conosciuta come la signora della chiesa Barfusser. Ricerche successive la identificarono come Anna Catarina Biscoff, nata a Strasburgo, in Francia. Nel marzo 1719 è morta a Basilea nell'agosto 1787. Probabilmente deve il luogo della sua sepoltura, normalmente riservato a persone di alto status sociale. Ha il fatto che fosse la moglie del pastore Luca Serler, che prestò servizio nella chiesa per molti anni. Nel 2015, un'altra serie di test scientifici ha rivelato qualcosa di molto più sorprendente. Anna è una parente molto lontana di Boris Johnson, l'ex primo ministro del Regno Unito caduto in disgrazia. Ci chiediamo cosa penserebbe la moglie di questo ministro di Boris Johnson se fosse stata viva per vederlo.